Ciao a tutti ragazzi da TFG on the man, oggi creiamo il torneo Il torneo? Il torneo E facciamo il nuovo torneo di... Consenti a crescere al di accendere e consenti, consenti Allora facciamo così, fai più là E così vi lasciamo il tag del clan, dataci un secondo Allora ragazzi, cacca senno TFG Mi raccomando, dopo vi lasciamo anche l'hashtag del codice del torneo Crea, facciamo quello piccolo perché la prima volta che lo facciamo Non sappiamo bene come funziona No perché non abbiamo gemme in realtà Esatto, non abbiamo gemme, quindi vai di 500 gemme vai No ragazzi, ragazzi, qui sto giocando io adesso Incredibile Elinegan sta guardando me giocare, bella partita, grazie Qui adesso il torneo, ma incredibile, lui ha creato il... L'evento L'evento, e io ho fatto fatica a gioinare, pensate voi Io sto arrivato 47esimo Ah il mago comune Il mago comune Ho deciso di nominarlo mago comune Vabbè, si beh Tra l'altro perché la prima partita mi becco un livello 9 Perché è giusto Che tra l'altro, giustamente, è più forte di me, sti cazzi Ma è giusto, scusami Che palla però, non è giusto Non è giusto, non è giusto un cazzo di musica proprio Dovevi procedere in tempo reale quello che sto per fare Eh, penso di sì Guarda quanti li stanno caricando È vero, è vero, ha solo le carte che ha lui e tutto Sì, però lo stesso cosa posso... Sai che ad esempio adesso sta caricando a 7 Può mettere... Lui ha il mini pack... No, adesso lui cos'ha? Inizia dalla sinistra o dalla sinistra, giusto? Sì, teoriate quelle sono le carte che ha messo non l'ordine In cui ce l'ha Allora, lui ha messo gli sgarri adesso Oh, adesso Ma io scomento anche così lì Probabile Adesso c'è anche così lui Adesso verrà la Torre Inferno, giusto? Per fermarmi il... No, vedi che sta mettendo il giocchiamato così via Ah, mette il gigante di magia Ah, è istantaneo praticamente la più Sì, figlio Aspetta, aspetta, aspetta Che ti fermo questo ZAP Perfetto, dai Dai che ricomincia da capo Dai 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 Ma no, ma dai No, ricomincia da capo L'hanno cambiata Come no? Sì, l'hanno cambiata È una stronzata È una stronzata infatti Porco al lama Sì, ma perché lui ha la carta comune Ha il mago comune, scusa Non è giusto che lui ha il mago comune O uccidi quel cazzo di mago comune Ma questo è un torneo, giusto? Sì Pertanto si va In base a quante vittorie fai e sconfitte Ma se uno pareggia? Ma ci sono più battaglie Se uno pareggia sempre? Eh, va giù di classifica È sfigato, sai Vai, vai domatore Vai, vai, vai Vai domatore Sei in tutti noi Vai domatore Il pecca Mi pare che c'è il pecca Ma rompere i coglioni Cioè Il deck perfetto Ho trovato Quello col deck Proprio perfetto per me Mini pecca È giusto dai È sempre perfetto Non è perfetto Non è giusto È essenziale È perfetto È essenziale Ma io giustamente Guarda Guarda che ti addormenti lì Guarda che palle Mago di comune Cioè il mago comune Veramente Gigante royale La mia prima partita La mia prima partita La mia prima partita Di clash royale Il torneo l'ho persa Metti il mago comune Dietro il mago Il gigante royale Bella partita Ma vai Ramego Bella giocata Quindi adesso cosa ho perso Quante battaglie posso fare Non lo so mica io Gioca tu adesso Come fai a fare battaglia Battaglia tu Vai battaglia tu Ma cosa devo battagliare FG vediamo un po' Cacca se Una partita di torneo Contro un livello 8 Dai Dai Sai che mi ricordo Proprio come giocare contro i livelli 8 Sei troppo abituati ai livelli 2 È vero Ma dopo che si non capisce Inizia col gigante dai Qui dopo sono capiti Perché vogliono vincere Gigante Speed Goblin Giustamente È crudà Cosa fu Ah merda Grande Grandissimo Grandissimo Adesso muoiono anche gli Speed Goblin Qua lì dovresti tirare la Zap in modo da uccidere qualcuno Appena riesco Cacca È morita Si cade tu di merda Ok adesso zappi E lui comincia a dire Oddio Oh my gosh Oh my gosh Sei nella Sei nella Sei nel cacaseno È mago comune Mamma pasta Ma perché ci trova Ma veramente Ma cos'è Quel mago di ghiaccio È una roba incredibile C'erano tutti Tranne noi Ovviamente Certo Perché non dovremmo avere Vai di Esatto Speed Goblin Dommatore vai Aspetta che devo aspettare che carichi eh Sei sei delizio Vai 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 Speed Goblin Dommatore Vai Speed Goblin Dommatore Spera Spera un boccato Ok perfetto Giusto Sulla Cosa c'è Eh cosa Vabbè quella torre è quasi andata giù dai Ce la puoi fare Cosa cosa No Volevo Ah è giù bravo Sì ma la stessa serie Buong Frecce 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 Siiii Voi calma non si armi Perfetto Perfetto Adesso Non ti preoccupare Aspetta Sono agitatissimo nelle partite Vuoi giocare tu? No Ma come agitatissimo ogni cosa Stavo una partita normale No non è vero È una partita più importante È importante È importante Eh scusa cosa fai? Adesso aspetta che carichi! Cosa ti ha messo per fermare il gigante prima? La strega giusto? Non so ha messo cose, ha messo il bombarolo Eh allora tu metti il gigante E gli sgherri E butta il domatore di là Oh gli spirit goblin Merde il tuo mago Guarda che roba doppio mago GRANDEEE Grande 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 Oh attento però che Non le frecce, usa la palla di fuoco Eh non ce l'ho, devo scaricarla in qualche maniera Eh allora Eh ok, è butta di spirit goblin E qui ferma, eh esatta Guarda che palle Guarda che palla di questo strozzo Sfera di fuoco Perfetto, ok bravo La torre è nata giù Guarda se c'è il mago comune Speriamo che lo uccidano Guarda che si è incazzato il tipo Si è incazzato Si è incazzato Attenzione Adesso ho butto i barboli assolutamente Il dobbio, ho calco, ho calco, ho calco Ho calco Ok l'hai salvata Si ma ho capito ma la palla è schifo Usa il domatore Il domatore Adesso quel mago va giù Dai 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 Due colpi adesso da dare Eh niente comunque non riesco a fermarle adesso Eh è perso Dai scari Ho finito Ho scato la faccia di merda Bene ragazzi come vedete state vedendo il replay Il replay La diretta La diretta Della mia seconda partita di Clash Torneo Royale Viene già male 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 Sto giocando Ho giocato bene Ok così E adesso dobbiamo uccidere questo Dove avere la palla di fuoco Che resta possibile Parla di fuoco qui dai Parla di fuoco Dai dai BAM Malissimo Malissimo l'ho tirata Malissimo Non importa Ma sono solo a livello 7 per i barbari Meglio Beh perfetto dai Adesso quei cov Così li muoiono Perfetto Devo riuscire a buttare giù quella Capanna Perchè adesso sai che io dico sempre no Che quando trovi un deck spawn Vi attaccare dal lato opposto Però adesso mi darebbe fastidio Attaccare dal lato opposto Visto che Quella torre Ha già un quarto di vita Esatto Sai cosa mi manca il nome Dai qualcosa che copicca zona Non è un mago No Eh dovresti averlo effettivamente Un mago molto utile effettivamente Scarica su quella stronza Dai 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 Ok adesso muore Adesso muore Proprio male proprio esatto Muore anche voi Morite Morite anche voi Adesso loro Lui Egli Egli Che tanto Ah non ce la fa Perfetto dai 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 Colpisci Ok è giù Una zero Una zero E gli butto giù anche quella Perfetto Bene giusto Bello Guarda il mago Guarda il mago Che bello Che bello Con quella palla di fuoco La palla di fuoco La palla di fuoco Scusa eh Guarda che faccia così Qui ho messo la tomba degli scheletrini E metto gli sgherri Ok Gli sgherri E' buono perfetto E metto gli goblin piccoli Dai goblin piccoli dai Scusa Guardate accortellate tutte Perfetto Guarda guarda quante Guarda quante Che perdono gli scherri Veramente schifo Su una roba orriva Adesso quella capanna La muore Quella capanna Perfetto e io metto il gigantor perfetto e gli metto il stronzo qui perfetto e il mago dietro e ne metto la capanna eh perché è l'unico che fa danno e lo zio Tom che cazzo uccido niente no ma metto il sapore spalla di fuoco assolutamente loro zappa la strega e ci sono 8000 truppe da zappare oh perfetto è andata giù la cosa degli spiriteri del fuoco allora adesso cosa faccio il mago assolutamente il mago alla pericina 26 secondi ragazzi ce la posso fare palla di fuoco là in fondo dai palla di fuoco ottimo così butto giù la capanna e barbari a difendere vai uccidi mago uccidi mago uccidi vai mago spalla mago zappate perfetto perfetto ragazzi che giocate che giocate sono pareggiatto dai 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 no no pareggiatto sto vincendo ho solo vinto ho solo vinto ho solo vinto quante partite ho scusa non ho mai capito qui posso guardare una quella più pesata adesso voglio vedere più cacchio no carica presto ma che strezzatevi stai buono che ha il suo perché tutto questo dai è vero effettivamente stai facendo vincere per noi no infatti non ne ho buttato a giù il suo perché ce l'ha effettivamente che è schifo che fai mi ha divertito quindi ragazzi vedremo il risultato del torneo alla fine ciao a tutti e al prossimo video ho detto bottiglia la persona ha dato tutto 500 gemme sai ciao a tutti Grazie a tutti.